Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro virtuale con il Festival Filosofarti che prosegue appunto in modalità online per le ragioni che tutti conosciamo. Siamo, nonostante ciò, riusciti a mantenere fede a gran parte degli incontri che avevamo programmato e oggi siamo qui per l'incontro con Vittorio Lingiardi. L'incontro verrà moderato, sarà un'intervista dallo psicologo Carlo Boracchi e devo ricordare che questo incontro è stato reso possibile dalla libreria Biblos Mondadori di Gallarate che ringrazio. Adesso lascio subito la parola a Carlo Boracchi. Buongiorno a tutti e buongiorno professor Lingiardi. Oggi siamo qui appunto con il professor Lingiardi che è psichiatra e psicoanalista e professore ordinario di psicologia dinamica presso l'Università della Sapienza di Roma. Oggi ci presenterà il suo libro Io, tu, noi, vivere con se stesso, l'altro e gli altri. E poi eventualmente a seguito della sua presentazione vorrò altre domande, insomma, altri quesiti che la lettura del suo libro mi ha suscitato, insomma, mi ha mossa. Buongiorno a Carlo Monti e a Carlo Boracchi, al collega Boracchi, grazie alla libreria Biblos e sono contento di avere la possibilità, insomma, di riflettere e discutere con voi e a proposito del mio libro, del mio ultimo libro, che appunto, mi ricordavo, si intitola Io, tu, noi, vivere con se stessi, l'altro, gli altri. È un libro che ha una sua vita strana perché è stato scritto a seguito del Festival dell'Antropologia di Pistoia e Dialoghi sull'Uomo, organizzato da Giulia Cogoli, nel corso quindi dell'estate scorsa. È uscito a settembre dell'anno scorso, ma evidentemente, insomma, c'è stata una sorta di incontro sfortunato per le circostanze, fortunato per il libro e per i temi che avevo trattato, perché le diverse dimensioni della convivenza, appunto questa prima dimensione è legata alla convivenza con se stessi, l'altra dimensione è collegata alla convivenza con l'altro e il tema del noi, quindi la convivenza con la collettività, con una dimensione di respiro collettivo, quindi anche sociale, sono poi diventati effettivamente i temi dei nostri ultimi mesi. Perché se ben ci pensiamo, al di là naturalmente di tutte le questioni mediche, virologiche, epidemiologiche che hanno occupato i nostri pensieri, che ci hanno tenuto informati e sospesi nello spavento, nella preoccupazione, ora finalmente, insomma, in una certa rincuorata ripresa, il tema però del cosa fare di noi, cosa fare dell'altro, l'altro della convivenza e quindi parlare di convivenza in un periodo in cui le convivenze sono state al centro delle nostre vite, soprattutto appunto per chi nella dimensione della quarantena, nella dimensione del lockdown ha dovuto fare i conti con, nel bene e nel male, con le persone che abitano la sua casa, ecco, vediamo in qualche modo una possibilità, secondo me, importante della psicologia, della riflessione psicologica, psicologica sociale, ma anche psicologica del profondo, che ci viene in soccorso in un momento in cui il tema delle relazioni è fondamentale. Perché io ho creato questa tripartizione? Un po' perché ero anche fresco della lettura di un libro che ho molto amato, che è il libro di Escolnevo, Tre Piani, peraltro so che Nanni Moretti ha da poco concluso, credo, rigirare il suo film a partire da questo romanzo, ed è una storia di una casa a tre piani dove avvengono, si svolgono storie, vicende diverse nei tre piani e sono anche tre storie che fanno in qualche modo riferimento, anche se poi fortunatamente anche, devo dire, l'autore non approfondisce in modo particolarmente ossessivo questa tripartizione, fanno riferimento all'antica idea freudiana della tripartizione della psichia individuale in termini di Es, Io e Superio. Ma oltre a questo spunto della molteplicità della convivenza interiore, un'altra frase che ha spesso risuonato nei miei pensieri e che amo molto, a cui sono legato, è una frase che viene dal filosofo Montaigne che diceva Io loderei un'anima a diversi piani. Quindi uno spunto estremamente suggestivo da parte di uno dei più grandi filosofi a considerare la nostra complessità, nostra molteplicità, la nostra stratificazione e a questo aggiungerei un'altra, diciamo così, tema guida che era in qualche modo già presente nel libro mio che si intitolava Mindscapes, Psichia nel paesaggio, un libro che ho fatto con Cortina nel 2017, che dice, è un'osservazione di un collega francese, Pontalis, che dice bisogna avere molti luoghi dentro di sé per avere qualche speranza di essere se stessi. Quindi come avrete capito anche da questi spunti, da queste ispirazioni, il mio libro parte da un'idea che è che la prima convivenza, anche se tutti noi quando parliamo di convivenza pensiamo immediatamente alla coppia, pensiamo immediatamente alla società, ecco invece io ribaltando un po' il percorso, ho pensato per prima cosa a noi stessi, perché ogni giorno ci imbattiamo in noi stessi, ogni giorno facciamo i conti con il piacerci, il non piacerci, l'approvarci, il disapprovarci, scopriamo di volere anche cose diverse che spesso sono cose incompatibili, vogliamo l'avventura e la sicurezza, vogliamo la solitudine e la compagnia, vogliamo la fermezza ma anche il patteggiamento, vogliamo parlare con gli altri ma andiamo anche il silenzio. Queste apparenti, diciamo così, contraddizioni in realtà sono lo specifico della nostra complessità. È morto purtroppo di due giorni fa, tre giorni fa, un grande psicoanalista americano, aveva 89 anni, si chiama Philip Bromberg. Philip Bromberg è famoso anche per aver scritto un libro che si intitola Standing in the Spaces, che vuol dire rimanere, stare tra gli spazi e con questo titolo ci illustra in modo molto efficace come la nostra tenuta psichica, anche la nostra solidità psichica e la nostra anche varietà psicologica è legata assolutamente alla capacità di saper vivere nella dimensione interiore che non è mai un blocco unico ma è un arcipelago di sé, collegate tra loro da ponti, da percorsi che mettono insieme le nostre varie parti fino a darci l'illusione di avere un sé unico e coeso, ben sapendo che è un sé che anche la letteratura psicoanalitica per molti aspetti scrive con la lettera maiuscola, ma in realtà quella maiuscola è formata dall'insieme di una serie di lettere minuscole che sono i piccoli sé. Tornando alla nostra attualità, la situazione che abbiamo vissuto, che abbiamo attraversato, ci ha costretto a fare i conti con anche istanze differenti e contrastanti al nostro interno. Per esempio, le parti più spaventate e quindi più portate a ritirarsi e a proteggersi, nell'occasione per esempio di una minaccia oggettiva pandemica come è stata l'epidemia del coronavirus, altre parti di noi che invece magari con modalità più onnipotenti, magari con aspetti anche di negazione, soprattutto all'inizio erano state a minimizzare lo spavento e a reagire con delle modalità che non erano propriamente protettive. Quindi io quando all'inizio di marzo ho iniziato anche a riflettere, scrivere su questi temi, avevo un po' come individuato una tensione interna a ciascuno di noi che potremmo sinteticamente descrivere come una tensione alla claustrofilia da una parte, quindi al senso della quarantena come ipotezione e anche come allontanamento sano dal pericolo che era all'esterno e invece la claustrofobia come grande sofferenza di questa costrizione allo spazio chiuso, costrizione alla convivenza prima di tutto con noi stessi e quindi le difficoltà e le tensioni di passaggio da una vita che eravamo abituati a trascorrere tutta fuori a una vita che improvvisamente è diventata un tutta dentro. In questo senso abbiamo riscoperto anche dal punto di vista simbolico il valore della finestra, della finestra come spazio transparente che al tempo stesso ci protegge. Rilke scrive una bellissima poesia, un ciclo di poesia dedicato alle finestre e uno dei versi di Rilke è che incognici l'esterno troppo forte, quindi chiaramente questa dimensione di protezione trasparente rispetto a quello che avveniva fuori dovevamo continuare a vedere, a monitorare, a osservare e quello che avviene dentro, cioè quello che avviene all'interno di noi stessi che come dicevo poco fa è un lavoro anche di negozia continua. Il ritmo della negoziazione tra le parti di sé è fondamentale nel rapporto con noi stessi. Se però questo ritmo di negoziazione, di conoscenza, di esplorazione e teplicità che abbiamo con noi stessi non si riflette nella capacità di negoziare il ritmo della relazione con l'altro, tutto questo lavoro che facciamo con noi stessi è sicuramente utile, non è messo a frutto dalla ricchezza relazionale che è poi il tenso anche per certi aspetti primario delle nostre relazioni. Ci siamo trovati a dover passare dal sistema del li al sistema del tu attraverso delle situazioni come paradossali perché il sistema del tu è un sistema centrato sulla relazione anche sul contatto fisico, sull'incontro, sulla fiducia, sull'attesa della presenza dell'altro. Lo conosciamo, chi si occupa di infant research o chi si occupa di teoria dell'attaccamento tra il bambino e la persona che gli fornisce le cure sa che l'attaccamento, la spinta alla protezione, alla reciprocità quello che oggi in psicologia chiamiamo l'intersoggettività è uno dei motori portanti della vita e delle relazioni. Ecco, ci siamo trovati in un momento in cui questa predisposizione al tu, già prefigurata peraltro dalle meravigliose riflessioni filosofiche di Martin Buber proprio sulla relazione io-tu, era messa in scacco prima di tutto dal fatto che questo tu era un tu che poteva portare la preoccupazione del contagio, la preoccupazione del rischio, l'esposizione al rischio. E anche era un tu che proprio per questa ragione andava non accostato con il principio dell'incontro ma con il principio della protezione. Ci sono oggetti come, dicevo prima, la finestra nel sancire il senso interno-esterno che ha dominato questi nostri mesi ma anche la mascherina protettiva che simbolicamente rappresentano anche il contenuto psicologico delle nostre esperienze di questo tempo. Io per proteggermi e per proteggerti, quindi già dentro un tessuto relazionale, devo però allontanarmi, devo però rinunciare alla, per esempio, a quello che in psicologia chiamiamo il face mirroring, cioè il rispecchiamento dei volti che produce le caratteristiche di sintonizzazione nella relazione interpersonale e a maggior ragione nella relazione terapeutica. Un'evocazione a questo punto della tematica dei neuroni specchio come, diciamo così, dispositivo di interazione e di intersoggettività prima ancora che sensoriale, motoria nella relazione io-tu è fondamentale. Come psicologi e come psicoterapeuti ci siamo trovati in questo secondo territorio, dall'io al tu, a vivere un'altra condizione piuttosto particolare che è la condizione delle terapie, delle psicoterapie, per esempio. un'attività penso che accomuna il mio lavoro e il lavoro del dottor Borracchi che da relazioni, come diceva Luciano Annissima e Momigliano, due persone che parlano in una stanza, una bellissima definizione di quella che è la relazione terapeutica, siamo diventati due persone che parlano attraverso uno schermo da due stanze diverse. Questo nella vita di chi fa il nostro mestiere ha avuto un impatto molto importante ma anche nella vita di chi crede fondamentalmente la comunicazione e la condivisione per cui anche in questo momento stiamo parlandoci ma ciascuno nella propria stanza. Non c'è più il corpo dell'altro, c'è l'immagine dell'altro ma non c'è il corpo dell'altro. Questo ha insegnato moltissime cose, intanto che la forza della relazione che sia psicoterapeutica o che sia la comunicazione e lo scambio culturale è ancora più forte della nostra necessità di viverla in presenza per cui abbiamo fatto un senso molto virtuoso proprio di necessità virtù scoprendo dentro questa dimensione di presenza-assenza attraverso lo schermo che tanti aspetti, tanti elementi anche del setting tra paziente e terapeuta ma anche della relazione sono prima di tutto nel nostro stato mentale sono lì che si preparano e si predispongono e nelle situazioni emergenziali e nelle situazioni particolari possono adattarsi e ricostruirsi nella loro virtuosità anche attraverso delle soluzioni che certamente non sono quelle che immediatamente preferiamo. Credo che tutti abbiamo voglia e bisogno di tornare non soltanto alle terapie vis-à-vis in presenza ma anche alle conferenze alle presentazioni di libri in presenza, cioè il corpo individuale e il corpo sociale è importante che stiano uniti. Però è anche interessante, è importante dire che siamo riusciti grazie anche alle tecnologie che magari in molti momenti abbiamo criticato severamente per la loro possibilità di veicolare per esempio il discorso dell'odio, l'ate speech e tutto il cyberbullismo e tutte le condizioni di comunicazione distorta online ecco invece in questo caso sono molto riconoscente alla possibilità che abbiamo avuto di proseguire i nostri contatti e le nostre relazioni attraverso lo schermo non solo come terapeuti, non solo come presentatori di libri e organizzatori di convegni e di conferenze ma anche nelle relazioni interpersonali tra amici, tra parenti. Il tessuto vivo della relazione, questa continua necessità di negoziazione, aggiornamento, condivisione è potuto andare avanti anche attraverso le chiamate, gli Skype, gli Zoom tra amici, tra familiari. Questo ci deve anche spingere a riflettere su il significato nel sistema del tu delle nostre convivenze domestiche. Quando parlo un po' di quello che è successo, adesso come avrete capito anziché fare diciamo una presentazione canonica del mio libro scritto in periodo pre-Covid, mi interessa di più attualizzarlo alla luce di quello anche che è accaduto perché come dicevo prima insomma per una fatalità c'è una forte corrispondenza tra quello che era scritto e un po' quello che è successo. Ecco, quando introduco anche nelle lezioni che ho fatto con i miei specializzanti nei dibattiti pubblici che ho fatto fino adesso il tema della dimensione pandemica parlo in modi diversi comunque di una dimensione che ha avuto un impatto traumatico, fortemente traumatico sulle famiglie colpite dalla malattia e fortemente traumatico su tutte quelle professioni di aiuto, medici, infermieri, ambulanzieri, servizi sociali, servizi della comunità che hanno vissuto l'impatto traumatico in prima linea, in prima persona con delle conseguenze come ho scritto che rimarranno sicuramente a lungo come cicatrici emotive anche quando i famosi segni delle mascherine sui visi degli operatori sanitari saranno svaniti. Esiste però oltre alla prima linea dell'impatto traumatico della pandemia anche tutta una linea di traumaticità più o meno lieve che riguarda l'obbligo di cambiare vita e il tema, torno al discorso precedente, il tema delle convivenze. Le convivenze dipendono molto da alcune caratteristiche, prima di tutto fisiche, le dimensioni della casa in cui abbiamo passato la quarantena, quello che vedevamo fuori dalla finestra, la possibilità di mantenere almeno visivamente un contatto visivo con anche se fosse solo un albero, un elemento comunque che ci restituiva a un mindscape di continuità e di crescita. Quindi anche la differenza psicologica delle quarantene in contesti rurali piuttosto che in contesti urbani e anche dal punto di vista geografico nelle regioni del nord più colpite sicuramente sono state esperienze più angoscianti di quarantena, più minacciate di quanto non è successo invece in altre regioni fortunatamente meno toccate dalla pandemia in Italia. E quindi questo mi spinge a pensare che anche il fattore economico e il fattore sociale, quindi il luogo dove le persone hanno vissuto e il comfort con cui le persone hanno vissuto, ha un significato molto profondo nel farci riflettere sulla maggiore o minore traumaticità di questa esperienza. Tant'è vero che per moltissime persone un'esperienza potenzialmente traumatica di quarantena e invece si è rivelata un'esperienza estremamente arricchente, estremamente nutriente di benessere nel rapporto con se stesso e le persone amate, tanto che oggi possiamo parlare per alcuni, devo dire davvero fortunati, di una certa nostalgia di questo momento che potremmo chiamare di regressione al servizio però della crescita individuale, della creatività, della ripresa in mano del proprio tempo, ma ci sono state anche convivenze e con questo termino il discorso sul tu e concluderò brevemente il discorso sul noi, il terzo sistema del mio libro, convivenze invece caratterizzate da grandissime difficoltà. Sappiamo che l'ambiente domestico può essere il posto più confortante e rassicurante del mondo, ma può essere anche un inferno e quindi tutte le convivenze disfunzionali, le relazioni con violenza domestica, le situazioni di grande conflitto tra coniugi e tra genitori e figli, le situazioni di famiglie che avevano malati psichiatrici in casa o malati che in quel momento non potevano avere un normale accesso agli ospedali perché la situazione della cura era bloccata e polarizzata sulle emergenze Covid. Le famiglie con bambini molto piccoli che si sono trovate improvvisamente senza il sostegno degli asili, senza il sostegno di un parco giochi, senza il sostegno di quel fuori che è stato appunto immediatamente portato a un dentro e sappiamo che senza gli spazi psichici e ambientali adeguati diventa inevitabilmente anche una diffusa della convivenza, una sofferenza della convivenza. Infine, questo periodo ci ha portato anche al terzo elemento a cui mi riferivo prima, che è questo passare al tema del noi, dove la convivenza non è tanto più la negoziazione anteriore, cura e la relazione negoziata con l'altro, ma è proprio il senso della responsabilità e della capacità di pensare stessi come elemento di una collettività e di una complessità, di un tessuto che è stato quello che abbiamo seguito con preoccupazione, ma anche con solidarietà, sempre all'interno di questa logica molto particolare di muri che ci separavano, ci separavano dalla società, non con la funzione di autoprotezione espulsiva, che è quella per esempio dei muri che separano i popoli, come quello al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, ma muri che paradossalmente separando includevano, perché ci proteggevano dandoci anche la possibilità di esercitare un pensiero di solidarietà. Certamente su questo tema gli ottimisti dicono che sarà una lezione di psicologia della comunità che ci aiuterà a ritrovare il senso di divisione con un'acquisizione di responsabilità maggiore e quindi anche di solidarietà, cura e tutela della società maggiore e altri invece più pessimisti che diranno che non appena l'emergenza e tutto quello che involontariamente abbiamo appreso dall'emergenza sarà finito, torna tutto come prima, anzi peggio, soprattutto perché poi quando il dopo ha anche una sua preoccupazione di sopravvivenza economica per tante imprese, per tante situazioni lavorative che hanno patito e stanno battendo molto, certamente i temi del pensare, del mentalizzare la comunità e la possibilità di aiuto e di rispecchiamento reciproco verranno meno. Anche questo trovo che sia un tema che deve passare attraverso la negoziazione individuale e non le polarizzazioni, cioè dovremo essere bravi a tornare alla vita, tornare all'attività, sapendo tenere insieme anche qua, diciamo, il tutto tornerà come prima ma anche il tutto non deve tornare come prima perché, come qualcuno ha detto, il problema era prima. Mi piace concludere, diciamo, queste parole sulla convivenza della comunità riportando al forte legame che è sempre tra la psicologia dell'individuo, la psicologia della relazione e la psicologia dell'attività, al punto tale che questi mesi ci hanno insegnato anche il significato politico e sociale della psicologia, mai come in questi mesi gli esperti, che fossero medici, esperti di salute mentale, psicologi, hanno avuto un ruolo nel loro grande anche come interlocutori della scelta politica e della polarizzazione della comunità e allora davvero ha proprio ragione Lava Zimborska quando scrive quei versi meravigliosi parlando dell'Auro e dice i tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle una sfumatura politica, i tuoi occhi hanno un aspetto politico, ciò di cui parli ha una risonanza, ciò di cui tacci ha una valenza in un modo o nell'altro politica. Grazie. Grazie a lei, professore. Allora, colgo la palla al balzo, no? Proprio per quest'ultimo aspetto di cui stava parlando, perché è uno di quelli che mi ha colpito di più. Allora, io avrei due domande, insomma, un po' due sollecitazioni che sortono. Una, diciamo così, è stata generata dal quadro. Una è una domanda relativa al quadro e l'altra è relativa alla cornice, insomma, che invece abbiamo qui oggi. Parto appunto da quella relativa al quadro, no? Cioè appunto il suo libro. Perché sono stato colpito, e le confesso, anche un po' spiazzato, no? Dal passaggio esplicito che fa dal clinico al politico, ok? Perché non si limita a fare un'analisi, diciamo così, di psicologia sociale, no? Prende proprio anche una posizione nel merito di alcuni interventi, di alcune scelte dal punto di vista governativo. È vero che quest'ultima parte, insomma, quest'ultimo periodo ci ha posto di fronte al ruolo, no? Che la psicologia deve necessariamente avere. Parliamo di uomini, in quanto psicologi, che sono stati definiti gli animali politici, no? In qualche modo. Quindi in qualche modo la connessione è chiamata. Però dall'altra parte viene anche da porci l'interrogativo quali sono le condizioni con cui la clinica e la politica possono dialogare, quali sono i rischi che lei vede, perché questa connessione non diventi una connessione impropria, no? Per cui questa connessione può diventare davvero fruttuosa e quali sono gli aspetti su cui invece bisogna prestare attenzione. L'altra domanda, la dico subito, poi si... Vedo un po' che al massimo la riprendiamo, insomma. Dicevo, ha a che fare con la cornice, cioè rispetto un po' a quello che è il tema, no? Del Festival Filosofarte di quest'anno, che è doxa e episteme, no? Quindi una parte è l'opinione, la conoscenza, eccetera. La domanda nasce un po' dal fatto, no? Che da diversi anni, un po' l'impressione che poi insomma non è soltanto mia, che la psicologia, per poter corroborare le proprie tesi, insomma, per poter parlare della propria conoscenza, debba in qualche modo andare a strizzare l'occhio o a presentarsi un po' sull'albero delle neuroscienze, no? Quando, sin dall'origine, in realtà, la psicologia non ha tanto voluto porsi come... cioè ha voluto porsi come un'altra forma di conoscenza, non tanto come la conoscenza del neuro, del sistema nervoso, quanto la conoscenza dello psi, cioè dell'anima, no? Allora, faccio la domanda al medico e psicoanalista, no? Allo psichiatra e psicoanalista. È possibile, secondo lei, un incontro tra la psicologia e le cosiddette scienze dure o questo abbraccio rischia di trasformarsi in un abbraccio mortale, perché per chi va alla ricerca dello psi e deve in qualche modo cedere al neuro? Queste erano le due domande. La ringrazio moltissimo per queste due domande, che sono due domande, come dire, molto importanti, molto grandi, perché collocano la psicologia tra due dimensioni, che sono la prima, quella politica, e la seconda, quella delle neuroscienze. Partiamo dalla prima dimensione, il rapporto tra la psicologia e la politica. Ovviamente, se da una parte sgombro il campo nel dire che la psicologia non è mai ideologica e quindi non ha niente a che fare con la sua identificazione con una ideologia o una struttura di pensiero in sé politico, ma nel senso appunto ideologico, inevitabilmente la psicologia è, come il fatto che abbia scelto così un po' di concludere con questi versi di Zimborska, è politica nel momento in cui è un'attività che si svolge nella polis, che si svolge nella comunità, che si svolge nella cittadinanza e il percorso un po' che col mio libro ho voluto descrivere è proprio come la partenza dal luogo della massima interiorità si riflette attraverso la relazione con l'altro anche nel luogo della massima socialità, diciamo, della massima dimensione esterna. E quindi questi tre luoghi, io, tu, noi, sono proprio politicamente uniti da questi anelli che si toccano e rimandano in continuazione l'uno all'altro. Nel 1985 uno psicologo junghiano che si chiama James Hillman, molto noto, è stato pubblicato, tutti i suoi lavori sono stati pubblicati in Italia, fece una specie di annuncio e anche un po' un monito a tutti i colleghi dicendo dovete aprire le finestre dei vostri studi. Torna il tema della finestra che avevamo evocato all'inizio. Cosa voleva dire Hillman? Voleva dire che l'irrinunciabile intimità e riservatezza della relazione interpersonale tra clinico e paziente, ricordo tra l'altro che il clinico è colui che si inclina al letto, clino, vuol dire letto, del paziente, quindi nasce da un'idea della relazione medico-paziente in cui è il clinico che va nella direzione della sofferenza, va nella direzione della richiesta d'ascolto. Però è anche vero che non possiamo curare le altre persone o non possiamo, penso, nemmeno ascoltare le altre persone se queste persone non le leggiamo e non le vediamo nel contesto di quello che avviene nella comunità. E anche, devo dire, su questo sono contento per esempio che l'ultimo, diciamo, manifesto dell'ordine degli psicologi dice non c'è salute senza salute psicologica, mostra come in generale anche le politiche sanitarie, e quindi vede che si tratta di politiche, devono avere in sé la partecipazione e la presenza dell'ascolto psicologico e del pensiero psicologico. Detti in altri termini, se vogliamo anche prendere il discorso delle diagnosi, le diagnosi che sono, diciamo così, i nostri punti di riferimento anche nel descrivere i quadri psicopatologici, i quadri sintomatologici, sono delle diagnosi che non vivono, diciamo, sospese nell'aria, ma vivono calate nei contesti della realtà e delle trasformazioni culturali, sociali e politiche. La psicoanalisi nasce con la descrizione dei quadri isterici, ma poi si è visto quanto della descrizione di questi quadri isterici era legata alle regole della famiglia patriarcale, alla cultura della sessualità che c'era all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, o per fare un altro esempio stracitato, pensiamo come nell'arco di pochi decenni il nostro modo di guardare alle tematiche dell'orientamento sessuale o alle tematiche dell'identità di genere si sia modificato. Noi non dobbiamo come psicologi occuparci della politica e nemmeno della legislazione, però non possiamo fare a meno di sapere e di comprendere fino in fondo che il nostro paziente, il testo del nostro ascolto è sempre in relazione alle trasformazioni e ai cambiamenti sociali e quello che sta succedendo in questo momento dal punto di vista sociale e sanitario è estremamente istruttivo perché poi le sedute di questi ultimi mesi certamente hanno avuto una parte che è legata sicuramente ed è irremovibile alla dimensione anche interiore, chiusa, riservata del discorso, ma anche a come quello che succede fuori, non solo nelle famiglie ma nelle società, si ripercuote anche sulla strutturazione dei nostri affetti, dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti. E quindi ci sono molti studi anche che dimostrano che quando la politica, per esempio, promuove delle leggi che sono leggi che influiscono sul nostro funzionamento psicologico o perché abbattono pregiudizi o perché rinnovano il discorso sulla salute mentale. In fondo, se vogliamo prendere un esempio molto classico, psicologia e politica si sono incontrate nel momento in cui anche sono stati aperti i manicomi con la legge 180. Quindi, e questo discorso tra poco lo traghetterò ovviamente con tutte le differenze del caso anche alle neuroscienze, la mia posizione è che ogni disciplina ha una sua specificità, ma è un grandissimo limite ed è una grande perdita se questa specificità non va a nutrire, a incontrarsi, a dialogare con le specificità delle altre discipline. In senso nobile, io considero che la politica è una disciplina che richiede peraltro competenza, istruzione e, diciamo, una struttura di pensiero che sicuramente può essere arricchito dal dialogo con la psicologia. Quindi, sia a livello del lavoro con il singolo paziente, sia a livello della formulazione delle leggi, che sono poi anche uno dei grandi luoghi in cui la politica esprime il suo ruolo. Anche le neuroscienze e la psicologia, in particolare la psicoanalisi, si muovono su piani diversi e sarebbe un errore molto grave procedere sulla strada di una confusione dei confini. Le intenzioni e anche i punti attorno a cui si è strutturato il pensiero psicologico sono diversi da quelli delle neuroscienze. Tanto è vero che per molto tempo si è parlato di mente e di cervello, che sono la stessa cosa vista da due prospettive disciplinari. Però è anche vero, forse questo lo dico anche perché la mia formazione è medica, ma lo dico anche perché c'è sempre stata comunque, diciamo così, un filo. Freud stesso era un medico neurologo, quindi diciamo c'è sempre stata un'attenzione giustamente al cervello oltre che alla mente. La separazione che in tanti periodi storici è stata addirittura ostile, è stata conflittuale tra una polarizzazione riduzionistica nel biologico e una polarizzazione altrettanto riduzionistica nello psicologico, non credo che ci abbia fatto bene. Prendo un esempio per tutti, aver trascorso tanti anni, finalmente quell'epoca è finita, con parte della comunità scientifica che riconduceva per esempio i disturbi dello spettro autistico a problematiche di carattere genetico-biologico oppure a problematiche di carattere familiare ambientale con certe caratteristiche dell'accudimento materno come induttrici di sviluppi patologici schizofrenogeni o autistici, sono due posizioni assurde da tenere separate perché sono posizioni che invece, e grazie a Dio l'epigenetica, questo lo ha spiegato, hanno una continua riflessione l'una nell'altra e hanno una continua ripercussione. Questo naturalmente non significa che il paziente che si sdraia sul lettino dello psicoanalista lo dobbiamo guardare come se si stesse sdraiando sul lettino per fare una risonanza magnetica all'encefalo, però credo che così come le neuroscienze e abbiamo grandissimi rappresentanti, abbiamo Eric Candel, il premio Nobel, abbiamo Joseph Ledoux che ha studiato i circuiti neurali dell'ansia e della paura e senza andare all'estero abbiamo il bravissimo Vittorio Gallese e Rizzolati che hanno mostrato anche le ripercussioni sulla disciplina della relazione terapeutica e della psicologia di una scoperta che è assolutamente di carattere neurologico, appunto quello delle accensioni dei neuroni specchio. Ecco, quindi credo che senza voler prendere il posto di un'altra disciplina, ma anzi coltivando la propria, di nuovo l'informazione, la conoscenza e il dialogo con le discipline che ci circondano sia fondamentale. Questo lo dico nel rapporto tra psicoanalisi, psicologia, psicologia cognitiva, psicologia delle neuroscienze. Tra l'altro, diciamo, forse da un certo punto di vista è più vivo il dialogo tra il cognitivismo e le neuroscienze, tant'è vero che poi è stato sviluppato addirittura un territorio che si chiama quello delle neuroscienze cognitive, ma anche credo che l'esperienza neuroscientifica ha portato anche a una serie di interessanti stimoli e anche di validazioni di molte attività che erano prima pensate come attività della mente, ma inevitabilmente sono anche attività del cervello. Questo, torno a quello che stavo dicendo prima, ha a che fare sia nel rapporto tra la nostra disciplina e le neuroscienze, ma anche tra la nostra disciplina e l'architettura, l'ecologia e la letteratura, nel senso che nessuna disciplina come nessun individuo è un'isola che può vivere isolata. Siamo tutti individui, discipline e saperi che possiamo semplicemente arricchirci della conoscenza e della relazione con quello che si sviluppa intorno a noi, senza perdere la specificità ovvia. Una domanda la volevo fare perché, visto che il suo libro ha avuto questa rilevanza e soprattutto è uscito proprio in questo periodo, e ha fatto anche riferimento a questo aspetto, ovvero nel coronavirus ci siamo trovati a dover fare comunità distanziandoci, cioè a essere uniti ponendo delle distanze. Però lei diceva prima, giustamente, che in realtà la necessità di dialogo, di comunione, di unione, di legame, ha fatto sì che noi utilizzassimo le tecnologie e che quindi potessimo comunque sentirci in un certo senso connessi. Questo ricollegandolo in un mondo in cui noi siamo costantemente iperconnessi. Ripensando anche, parlando del coronavirus, si ritornava alle epidemie che ci sono state nel corso degli anni, dove questi strumenti non c'erano. E si può non vedere come il legame che c'è attualmente e che è reso possibile dalle tecnologie e un tempo non ci fosse. È cambiato qualcosa con il ricorso a queste nuove tecnologie che già c'erano, ma che hanno reso possibile forse un'ulteriore atomizzazione dell'individuo nel rapporto con gli altri, dato che appunto prima la comunità in cui ci si chiudeva era, boh, forse al più la città, ma neanche. Invece adesso in realtà io sto parlando con lei, che è in un'altra città, con Carlo, che è in un'altra città e sono singolo, sono da solo, sono da solo a fare questa cosa. Non so se mi... Certo, mi sembra importante cogliere questa unicità che si è manifestata in modo potentissimo in questi mesi, proprio perché si è creato un contrasto estremamente intenso tra il bisogno di comunicazione e l'impossibilità di partecipazione. Quindi la mediazione tecnologica ha permesso che questa linea si sviluppasse tra il singolo individuo e la collettività. Ma diciamo, in tutta questa era ormai definita della globalizzazione, diciamo, questo tema del passaggio da una economia non soltanto appunto economica, ma anche psicologica, anche relazionale, della singolarità, del borgo, della piccola comunità, a una dimensione di grande comunità dove effettivamente le distanze fisiche, che per me continuano a essere importantissime, però a determinati livelli e in determinati modi di comunicazione sono annullate e esiste appunto una rete a maglie più strette che unisce più persone. Quindi è certamente vivere una situazione così collettiva oggi potendo ricevere di ora in ora le notizie, ma anche le comunicazioni degli altri con i WhatsApp, con le comunicazioni non più portate, diciamo, dal rintocco delle campane del villaggio quando moriva qualcuno e allora si sapeva, no, da, diciamo, questa immediatezza informativa. Io ritengo che in questa fase che abbiamo attraversato sia stata estremamente utile perché alla fine uno dei rischi era anche la solitudine, era anche il perdersi nella propria solitudine o anche nelle proprie difficoltà, non riuscire a cogliere, diciamo, il respiro e il senso di un ascolto e di una condivisione che andava al di là delle quattro pareti di casa propria. Quindi io penso che sia stato un fatto estremamente importante. So che può sembrare retorico, ma tante famiglie anche che erano smembrate in diversi luoghi, tanti studenti che erano lontani dai loro docenti, tante persone che erano lontane dai loro uffici, hanno potuto mantenere la vitalità del tessuto anche identitario che è fatto di lavoro, che è fatto di relazioni, che è fatto di affetti, anche grazie a questi dispositivi che in tanti momenti, invece, abbiamo maledetto e forse anche un po' a volte in questo periodo per la loro alla fin fine onnipresenza. Per cui, se da una parte è stato importante e va valorizzato il ruolo esercitato dalle tecnologie per tenerci insieme, non dobbiamo però dimenticarci che questa è stata e doveva essere anche un'occasione per stare più insieme con noi stessi e quindi, così come è importante accenderli, credo sia importante spegnerli per poter invece ritrovare e anche forse senza essercelo aspettato prima, godere e gioire di una vera possibilità di sospensione e di meditazione personale non iperconnessa. chi riesce a fare, chi riesce a stare su questo movimento diciamo così tra l'iperconnessione sociale e la solitudine meditativa e chi ha saputo organizzare anche la propria vita su questo doppio registro in una, torniamo al sistema della negoziazione interiore, in una buona capacità di movimento, di standing tra gli spazi, tra queste due polarizzazioni, sicuramente esce anche paradossalmente arricchito da questa situazione sempre che non abbia dovuto confrontarsi con la dimensione traumatica che è quella poi che invece rompe lo schema perché è imprevista e soverchiante e quindi interrompe questi tessuti delicati costruiti di giorno in giorno di comunicazione e anche di comunicazione interiore e anche di organizzazione delle parti di sé. Se posso aggiungere un'ultima cosa visto che mi è capitato in questi mesi di lavorare anche su dei materiali onirici, di raccogliere dei testi onirici e di ascoltare come la vita onirica è la cosa più privata che abbiamo si sia comunque stata molto abitata da quelli che chiamiamo i resti diurni cioè le parti del giorno che vengono a popolare la notte e se pensiamo anche come i confini nel loro specificarsi si sono fatti un pochino più fluidi ho avuto l'impressione che per molte persone la vita diciamo del sogno e la vita della veglia sono state anch'esse più in relazione e hanno consentito quel tipo di importante nutriente stare con se stessi che a volte è effettivamente messo sotto minaccia da questa spinta umana inevitabile a stare anche sempre con gli altri e con queste connessioni bene io ringrazio il professor Lingiardi per questo interessantissimo incontro e ringrazio anche Carlo Boracchi per aver condotto l'incontro e presentato il professore grazie grazie a entrambi e buona giornata arrivederci grazie a tutti